Quali sono le caratteristiche del Doberman? Benvenuti in conoscenza generale e oggi parleremo di questo cane e le sue caratteristiche. Allora voglio dire che lui è molto affettuoso con la famiglia, elegante, muscoloso, facile da educare, molto protettivo, soprattutto se si addestra per la difesa e la sua è una media aggressività e ha un temperamento medio dominante, oltre che molto energico e può vivere fino a 14 anni. Il Doberman pesa tra 32 e 45 kg ed è alto massimo fino a 72 cm. In pratica è un cane di taglia media e il pelo è ruvido, corto e denso. Il suo mantello può essere con marcature o mascherato di colore marrone e nero. Il collo è muscoloso, è asciutto e la testa è a forma troncoconica e quindi il Doberman è facile da pulire, tollerante alle temperature fredde, oltre che in grado di stare anche da solo. Inoltre lui si adatta anche alla vita di appartamento. Chi desidera comprare questo cane deve essere disposto a spendere tra 1800 e 3200 Euro e l'acquisto del cibo, quello di qualità intendo dire, può costare anche sui 70 Euro al mese. Il Doberman oltre a questo è amichevole con i bambini, ma è meglio che loro non stiano mai da soli con questo tipo di cane perché non si sa mai come potrebbe reagire, potrebbe essere addirittura molto pericoloso per loro. Inoltre questo cane è molto diffidente verso gli sconosciuti ed è poco tollerante anche con gli altri cani. Un'altra caratteristica è che lui non sbava e la perdita di pelo è minima e se non si muove tende ad ingrassare. Nonostante lui abbia una lunga vita potrebbe essere soggetto a malattie agli occhi, displasia e cardiomiopatia dilatativa, epilessia, intorpividimento e la sindrome di Von Willenbrand. In pratica queste sono le cose che bisogna sapere se si decidi di acquistare un cane di questo tipo, ma prima di acquistarlo vi consiglio di andarlo a vedere spesso durante il suo allevamento in modo che incominci ad abituarsi alla vostra presenza e voglia la sua. Posso dire che questo cane è di origine tedesca, nato tramite incroci tra il 1850 e il 1870 e il nome di questa razza è stato assegnato da Frederick Louis Doberman, perché lui voleva creare una razza per cercare di utilizzarlo durante la caccia e fare la guardia. I cani che sono stati utilizzati durante la creazione di questa razza sono stati gli antenati del Rottweiler, il pastore tedesco e il Pinscher e forse l'antenato dell'Alano. Senza dubbio il Doberman è un cane molto bello, ma non è adatto per tutti e una cosa che voglio aggiungere è che lui piace molto mangiare e può soffrire molto spesso di torsione dello stomaco e può mangiare carne, pesce, verdura a foglia larga, grassi e oli assunti come adorazione oltre che deve bere acqua molto spesso. Inoltre i cibi che bisogna evitare assolutamente sono come la frutta fresca oltre quella secca, altri elementi da evitare sono i dolci, pomodori, sale, cavoli, uova crude, cibi contenenti lattosio, cioccolato e caramelle, avocado, cipolla, scalogno e bevande eccitanti come il caffè o il tè ad esempio e nel fare questo permetterete al vostro futuro cane di stare bene. Ovviamente questi sono consigli solo per chi non ha questo tipo di cane perché ovviamente chi è che ha già il Doberman queste cose le sa benissimo e quindi sa come comportarsi e una corretta alimentazione potrà rendere il pelo del vostro futuro cane lucente, brillante e folto oltre che avere la giusta energia. Anche questo video podcast è finito e quindi vi invito a mettere un bel mi piace e iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e cliccare la campanella per restare sempre aggiornati oltre che condividere questo video con più persone possibili tra amici, parenti o chi volete voi. Inoltre se volete vedere altri video che parlano di animali, di video podcast che io ho già fatto, anche se non ho fatti molti ma comunque sia tanto aumenteranno sempre di più e vi consiglio quindi di guardare la mia playlist alla voce animali e con questo è tutto e vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!